La più cordiale buonasera del centro sportivo La Siepe si gioca la Supercoppa della stagione 2015-2016 nel campionato amatori di Latina in campo Dolce Notte contro Futsal Sezze Mugroace cerca di far su al pallone Bruchel, la possibilità per il tiro e c'è il gol del vantaggio del Futsal Sezze All'indietro adesso prova Mugroace, si lascia spazio, poi il piattone da parte di Pinzario Daniel Palla che finisce sopra la traversa, palla poi persa, palla in area, Bellocchi di prima attenzione Subito in avanti, Svanaccia, ma c'è il gol del raddoppio, Svanaccia Karpiuk 2-0 per Futsal Sezze Domei Pronta a rimettere in gioco, si atterda un po' proprio sul filo dei 4 secondi Palla ripresa da parte di Pinzario Flonin, palla che va a scheggiare l'incrocio Pinzario poi si accentra la possibilità per dare a Mugroace Vishan, Mugroace, Randa con il mancino Porta a tre le marcatore del Futsal Sezze Mugroace il tiro di Lupsan, poi arriva anche Grama, la risposta di Bellocchi E dovrebbe esserci il calcio di rigore perché è il fallo di Schietto Sarà lui contro Tomei, parte il fischio, parte la rincorsa, il tiro E la risposta di Tomei, Grama a questo punto La possibilità, parte il fischio, parte anche la rincorsa, Grama, il tiro E c'è il gol di Grama, direttamente in avanti Bellocchi, Grama, non c'è fallo, ma l'andruccolo Brukner, il gol di Brukner Che arriva dalle retrovie e piazza il pallone alle spalle di Karpiuk Tiro debole verso Grama, recupera prima Brukner, palla soffiata da Karpiuk Con Lupsan, poi Tomei ancora si supera in più circostanze Parato a Bishan da parte di Tomei Adesso il tiro di Karpiuk, fuori di poco Comunque a riconquistare il pallone all'indietro per Karpiuk Pinzario e Florin in mezzo Il tiro di Grama, c'è Tomei a far buona guardia Karpiuk Pinzario e Daniel Nulla da fare per Dolce Notte Brukner recupera, ma recupera anche Pinzario Daniel La traversa, a dire di no sulla sua conclusione In mezzo Pinzario, Florin Ottimo il suggerimento per Mogoroasce E c'è il gol Pinzario, Florin Si accentra Prova il tiro Tomei risponde Mogoroasce Non si chiude E splendida esecuzione Su calcio di punizione di Fusco Pinzario Daniel verso Florin Pinzario Palo Mogoroasce Mette subito in mezzo Pinzario, Daniel Grama Mogoroasce Karpiuk Stoppa il pallone, lo mette giù Randa lo soffia A Pinzario Se ne va Brukner Fusco Doppietta per Fusco Pinzario, Daniel Fa tutto da solo Ma c'è Tomei che è in spaccata Allontana Mogoroasce La finta di Grama Il tiro di Karpiuk Sotto la traversa Grama Sale anche Karpiuk E c'è il tiro Con Pinzario Daniel C'è Karpiuk Lupsan Deposita il pallone Rete Lo recupera Karpiuk Guadagna Terreno Poi Vignaroli Il lancio lungo In avanti La palla che finisce In rete C'è l'errore E il gol Che porta Vignaroli Ad esultare Brukner Il tiro L'incrocio Dice di no E finisce qui Futsal Sezze Batte a questo punto Dolce notte